Ragazze, buon pomeriggio, buonasera. Io sento che in questo punto, proprio in questo punto, rimbomba. Incredibile, perché? Perché? Che cosa c'è? Perché per il punto di rimbomba. Ecco, se siete entrati un pochino, cominciamo la diretta che poi andrà su YouTube. Buon pomeriggio o buonasera ragazze. Vogliamo parlare in maniera molto calma, Katia? Come la volta scorsa? Con molta lemma. Con molta lemma. Allora, siamo partiti... Mamma mia, questa conna. Siamo andrati pose. Che cos'è questa conna sotto? Facciamo un smr. Che cos'è questa conna sotto a questo cappotto? Questa conna è una conna carinissima che tu hai acquistato. Sì, allora, io ho preso la gomma e il cappotto, ragazze. Quindi probabilmente, se riesco a fare un video, perché ho preso tanta roba. Quindi non so se vi farò vedere tutto, tutto. Vedremo. Allora, prossimo video shopping domenica. Capi di Katia Sciacchè, scarpe di prima donna. Quindi dovete assolutamente vedere il mio video. Ci sono i cappotti di Katia, gonne, maglioni. Ho preso di tutto e vedrete tutto quanto domenica. Ha fatto uno shopping pazzito. Ho fatto uno shopping... È per quello che non ho fatto diretta e non ho avuto modo, perché o faccio shopping o faccio la diretta. Eh, eh, non si possono fare... Dunque, ciao Pina M. Ciao a tutti. Iniziamo la diretta e partiamo dal ciclamino fucsia. Allora, il cappotto è meraviglioso e ovviamente, come di consueto, Katia ha preso delle cose che... Bene. Io ci vedo pure quella gonna di ecopelle so... Mamma mia. Per chi non ama invece... Questa è una bella mia. Sì, bello. Bella. Io ci ho messo il bagnoncino oggi perché c'ho freddo ma... Facciamo vedere anche... Sì. Facciamo vedere anche la gonna di ecopelle nera. Io vado molto lentamente perché ho capito che vi è piaciuta la volta scorsa... Sì. La nostra nuova modalità di fare video. Ragazzi, il nero col fucsia è... Poi faremo una... Che poi è un fucsia, è proprio un ciclamino. Sai che a me piacciono poi quelle due tonalità insieme? Sì, ragazze, ragazze, questo cappotto è bellissimo. E la hai... No, non la hai in quel colore. È un modello diverso che però... No, allora, quel fucsia c'è questo. Ragazze, guardate questa camicia. Cioè, io mi sono innamorata di questa camicia. E questa non rimane per forza corta, la puoi tirare. È bellissima, Katia. Che cosa gli vuoi dire questa camicia? Eh, niente. Cosa, cosa gli vuoi dire? Eh, niente. È bellissima. Che ci vogliamo dire? Che bella. Allora, questo è l'angolo ciclamino fucsia. Poi ci sono anche dei maglioni fucsia. Il flair, ragazze, sta proprio... In azienda da me, tante, tante donne. È un'azienda molto grande. Io anche, io sono bellissima, mi vanno a rubare. Poi questo è un bel colore, un jeans scolorito, aderente, a vita alta, ma non troppo, non ti soffoca. E trovo che il jeans nero, comunque il nero il fucsia, accende ancora di più il fucsia. Sono forse uno dei pochi colori che amo abbinare al nero. Perché è un po' più curvi. Sì. Questa si modella al corpo senza... Si può mettere anche all'interno di un jeans. Katia, togli subito la musichetta. Ancora, c'è la musica, ma io potrei cantare eventualmente? Volendo, sì, sono io quella che devi fare. Allora, dopo canto. Io canto. Io canto. Allora, le mani in tasca e canto. Sì, questa è la pazzia. Sì, ok. Allora, diciamo, al fucsia le ho fatti vedere. Questi sono dei mani cini morbidi, morbidi, morbidi. Mi piacciono. Questi ce li avevo anch'io che li ho presi gli anni passati. Sì, perché tu puoi scendere la spalla all'ore di un pòmino più sesso. In ufficio lo tieni semplice, avu. Che la vuole non troppo corta, non troppo stresa. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Si presta molto a ASMR. Ho messo le lucine, sei contenta? Oh, non l'avevo vista, ma che spirito d'osservazione ho oggi. Dopodiché, riordiniamo il toro. Allora, dopo di che, forse l'abbiamo fatto vedere, mi sembra, no? Sì, passiamo a fango e i decru. Ma non mi ricordo se l'ho fatto. Uh, no, non me lo ricordo affatto. Bello. Non si è venuta quando... Col marrone ed il fucsia e il senape, un giallino. Ciao, raccazze. Ciao, Rita. Ciao, raccazze, ovviamente. Raccazze. Che titolo diamo in questo video? Tutto quanto. Oh, 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 oh. Ragazze, vogliamo parlare a voce bassa, in maniera che vi rilassate. Poi ci sono i pantaloni. Oddio. In maniera molto senza... Caglia proprio ci fa rilassare. C'è un po' di faventare. Io ti stavo dicendo, parleremo in maniera molto rilassante. Ma quella blusa, mi sbaglio, anch'essa sarebbe bene. Bello il completo. Bello il cappotto. Ragazzi, il cappotto è qualcosa di wow. Allora. Saluto a tutti quelli che mi conoscono. Sì. Mamma mia, che colore. Lascialo giù che ci buttiamo su il marrone ed anche le crow. Tè. Tè. Mamma mia, che colore. Rosa ruggine. Fantastica. Foderata. Molto bella. Molto morbida. Non ha età. Senza tempo. Ragazzi, questa va sempre. Tra l'altro, non ha età. Intendo che la può portare una donna dai 20 fino ad una donna di 70-80 anni. Tranquillamente. Ma certo, perché si adatta perfettamente. Poi ragazze, diciamo che è ecologica, quindi comunque non ci sentiamo neanche in conto. Potremmo metterla giù con le crew. Tira fuori le crew. Che è il mio tormentone di questo autunno-inverno. Sì, un pantalone in ecopella un po' più morbida. Parla un pochino più bianca. Ah, scusa, devo parlare di più. Ah, che è il tuo messaggio. Mi piace questa maglia che hai anche in bianco. Yes. Adoro. Bella. Eccola qua. Bellissima. Questa l'ho presa in bianca. E poi ci sono le pare bluse, volendo. Sì. Ti può mettere anche sotto, eh. Sì, 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 sì. Puoi fare anche sotto, tipo me, che io sono freddolosa. E' muccia, non è freddolosa. E' muccia fagnuda. Guarda io, lana, 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 lana. Oggi avevo caldo. Io stavo morendo con questi due componenti. Ma da noi c'è un riscaldamento che è veramente qualcosa di bello. Questo cappotto è bellissimo. Se non erro, lo hai in un'altra, non possiamo... Oh, mamma mia. Lo sai che amo questi acquistamenti. Io però con quella sciarpa, oltre questo cappotto, ci vedo anche quello alle mie spalle. Possiamo far vedere il sesso modello, colore diverso? Tanto per rendere un attimo... È bello il sesso modello, Lucia. Ma è simile? È più lungo? È più lungo? Questo è da abito, però. È più lungo. È più lungo. È più lungo. Bello. Questo è un beige rosato, c'è nello. Esatto. È un beige rosato. Io, come di vicini, si vede la differenza. È un beige rosato, perché non è proprio rosa, ragazze, dal vivo. Esatto. Bello. Che muo va questo bello? Scusa, scusa, era per farvi vedere che... No, perché... Ve lo farò mai più. Prima lei mi insegna che dobbiamo fare prima questi colori, poi dopo lei... Siccome è passarella, a secondo di... Adesso, ASMR, adesso... La passarella bella... Vedremo altri capi di Katia Giacchè. Bello questo acquistamento. Mi piace tantissimo, donna. È elegante, però... 19-18 minuti da Katia Giacchè. Ah, oddio che fatica andare su e giù. Pantalone sempre a vita alta. Molto bello con le tasche così, bellissimo. Yes. Bene, molto bello. Katia la sto facendo spressa. Che bellini che sono sempre quei maglioncini che prendi in filo con i forellini. Che ne hai, è rimasto solo questo bianco? Ah, sì, l'ultimo è così e è rimasto il verde. Finiti tutti e poi già, ad esempio, andrà di nuovo in fornitura. Settimana prossima saremo di nuovo qui. Settimana prossima. Rinizieremo da Katia Giacchè. Mi piace un sacco che hai messo le luci. Cioè, mi accorgo adesso. Eh, l'ho fatto per te. Lo so, io le amo. Ho detto, poi viene in buccia quella mestrilla. Sì, strillo. Katia, poi tra l'altro mi piacciono tantissimo questi maglioni. Ho detto, la scala ho detto, fammi la mia soffitta. Bello, bello pure questo. E pure l'albero ho tirato fuori. E dove l'hai messo? Ecco il mio albero, il mio albero è di una tassata. Ma Katia, io che ti guardavo intorno. Sì, mi lo vedeva l'albero del blu. Sei cattiva. Ma ti ho detto, un albero decente. Cos'è questa cosa? È questo. Che grande quanto la mia mano, ma... Maglioncino, mannaggia, mannaggia. Ok, andiamo avanti. Io sto facendo una carrellata per far vedere anche quel maglione che mi fa impazzire. Anche questa è una sciarpa, guarda quanto è carina, è muccia. Iiii, che bella, non l'avevo vista. Con tutte le palle c'è anche quella... Particularissima. Quella in un nero. Sì, la vedo lì giù. Maglioncino qui, pure il nuovo. C'è anche un altro colore. Bello. Mi sa che l'ho visto dagli scatti che hai fatto. Sì, si fa toglie l'interno. Con la sciarpa si mette e si toglie. Esatto. Tipo sciarpa. Ancora, diciamo il colore calcio. Mia madre. Wow. Baglioncino semplice. Baglioncino semplice e blusa. Bella sta blusa. Petrolio e rosa a me piace da matti. Ragazze, petrolio e rosa insieme. Che fantasia. Madonna, sta collezione mi piace troppo. Hai preso dei bei pezzi proprio. E i jeans. C'è anche il famoso Flair. Flair. Lo troveremo. Perché Flair è quello che sta mandando. E c'è anche il cappotto volendo da abbinare con quella blusa. Che è questo cappotto di questo... Esatto, Marsala. Di un rosa particolare. Che poi vi faccio, mentre Katia mette in ordine, vi faccio vedere anche che tra l'altro ha il teddy color ciliegia. Molto bello. Bellissimo, ragazze. Quindi da Katia trovate dei teddy perché c'era una mia amica che cercava un teddy. Quindi credo, non so se ce l'ha anche il grigio tortora. C'è il teddy grigio tortora perché c'è qualcuno che lo cerca. Perché va ancora, fa freddo, lo mettiamo, io ce l'ho, ce n'ho due. Quindi ok. E poi questo cappottino un po' più leggero che secondo me anche sotto al teddy si può tranquillamente mettere. Magari non di quel colore. Ma è quei cappotto giacca, no? Perché è freddoloso, sta in ufficio e non vuole stare solo col maglioncino. Si può mettere. O anche comunque nelle giornate più calde. Qui a Roma ce ne sono state. Insomma ce ne sono dei momenti un po' più caldi. Bellissimo anche quest'abito in rosa perché mentre lei riordina io vi faccio vedere altre cose. E da Katia potete trovare anche degli accessori particolari. Borse e quant'altro. C'è tutto. C'è di tutto. Questo l'abbiamo fatto vedere. Sì che poi alla fine l'abbiamo fatto vedere. L'abbiamo fatto vedere. C'è anche la borsina che ci potrebbe stare. È aperta. Ah 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 ah. Bella. Aspetta. Ah 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 ah. Io intanto faccio vedere tutte cose. Questo è il maglione di cui si era innamorata una mia amica che poi ha comprato. C'è così e quel colore che ho esposto il colore. Bello anche quel colore lì giù che adesso mentre tu metti. Sì. Quello l'ho preso anche io. Carinissimo. Bellissimo quest'abito. Bello. Sono tornata. C'è Loredana per sempre. Ciao Loredana. Ciao ragazze. È bella. Sì mi si è mancata. Vabbè siamo noi che non abbiamo fatto diretta in questo periodo. Esatto. Chissà che questo periodo di riposo abbia fatto bene anche a voi. Dai nostri diretti un po'. Diciamo ci siamo calmate. Però non vi credete. Non è finita. Non vi credete. Non che è una calma prima della tempesta. Esatto. Adoro sti cardigan. Vabbè io campo di cardigan. Io mi rimango a pranzo di cardigan. Guarda particolare che sta questa luminosità nella lana. Mi piace tra l'altro. Sì. Anche. Oh Dio Dio so. Ciao se ne stavo andando. Wow. Mi piace. Ciao. Vabbè guarda che ho fatto eh. Non mi fate arrabbiare. Non mi fate arrabbiare. Le sampelle mi fanno arrabbiare ovviamente. Ovvio. E poi ci sono i pantaloni volendo da abbinare. Petrolio. Oh tantissimo. Ti ricordi le cose che non abbiamo? Bello questo verdino. È identico. Sta benissimo. Eh meno male. Perfect. Aspetta Moccia non ho finito. Non ho finito qui. Poi questi baglioncini che l'ho già venduti. Ti credo. Ma che bellino. Perché non è che è in fagotta. È proprio carino. È carinissimo. Mi piace. Che colori li hai questo qui camel? Mi è rimasto in fucsia. Che tra l'altro ci potete mettere questa canotta. C'è la panna molto bellissima. Fucsia panna. Fucsia panna. È rimasto. C'ho il bluette. C'ho il bluette. C'ho il bluette. Però non ti devo riassortire. Questi stravenduti. Bellissimi. Perché sono caldi, sportivi. Ma possono anche con una conna così. E col cappotto camel che hai di là. Esatto. Il cappotto camel. Poi c'è... Arrivano un sacco di cuori. Non è chiaro. Bello. Wow. No? Bello con quel maglioncino. No? Buono. Mi piace. Anche perché mi vanno questi diversi begiolini mischiati. Mixati. E' anche in questo colore. Ah, petrolio. 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 Sta bene anche con la conna. Posso riprendere? Sì. Ovviamente ho tutte le scelte. Dopo il mio consenso. Sì. Infatti io sono stata ferma. Hai visto? Sì. 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 Perché io non davo il mio benestare. Guardati dove si tre sta blusa. Non so perché non l'avevo notata. E' bellissima. Cioè sta blusa è bellissima. Bellissima. Ma che ti pensi che spicciamo le case passano? No. Adesso tocca al celeste. Bluet. Carta da zucchero. Siete pronte? Quali? Dove stanno? Non li vedo. Picci. La chiaretta. Picci. Sì. Wow. Sono piccoli sono. Belli. Questi qui a palazzo? Sì. Togli tutte le cose. Riccata. Guarda come si sbriga. Guarda come si sbriga. Voglio farci vedere tutte le cose. Wow. Anche nero ovviamente. Mi aggrada tantissimo. Tipo un po' lo stile che ho da sui. È un pochino più accostato quello. Bello lo sai. Ebbè. Ebbè. Qui andiamo sul pesante. Verde militare. Loredana se ne esce con colori. Loredana per sempre mi fa morire perché poi cerca cose. Verde militare. Bella sta camicia trasparente. Riusciamo a vederla. Oddio io la porto pure d'inverno. Però non è il momento. Cioè nel senso in questa fase, in questo periodo. Loredana tu ti inventi le mode. Il viso adesso se non si è abbronzata. No infatti ho. Ah no forse perché non mi ha mai. Partiamo dal cappotto blu. Quarto da zucchero. Allora un altro vestitino. Finiamo il bluette. Va bene. Quello col cappotto e col cardigan cammello. Esatto. Perché riprende perfetto. Stivali cammello che ho visto da prima donna e via. Wow. Mi garba. Poi si può mettere pure sul vestito questo maglioncino. Ci piace. Ci piace. Tantissimo. Vabbè qua non c'è un centro di niente. Rosso. Loredana. Che dice Lori? Il rosso ha tirato fuori. Oddio mio. Rosso è arrivato a Natale. Qualcosa. Loredana sei pre-natalizia. Pre-natalizia allora. Ci siamo dai. Quello col cappotto camel è perfetto. Oddio io penso sempre che aprono la porta. No Katia cosa mi stai facendo vedere. No. Vabbè. Metti quella blusa super. No sta blusa è qualcosa di chic. Il pantalone cammello. Anche una gonna cammello. In ecopelle cammello se l'avete. Bello. Sì anche col jeans. Il flasso scuro. Oppure il flaschiaro. Ah è bellissimo. Il suo cappotto ragazzi è qualcosa di meraviglioso. No no guardate questi tre insieme. Poi non mi dite che non si girano a guardarvi. Perché è un look di quelli ricercati da foto su Instagram proprio. Ce li vedo ragazzi. Cioè dai su. Pantaloni che tirano sulle soppette. Ci stanno ci stanno. Loredana sfondi una porta aperta qui Katia li ha. Sì perché riprende i colori del cappotto. Bello Katia bellissimo. Bene. Con questi paletti grigi. Cambiamo colore. Perché? Io sguazzavo su questo colore. Ma io stavo così bene che guardavo sto colore. Mi innamoravo e me lo leva. Mi innamorai di te. Innamorai te. Quella blusa proprio deve essere mia. La blusa. Quante ne hai di queste bluse? Quale? Quella che hai sollevato. Quella elegante. Scicchettosa da cappotto carta da zucchero. Uno, due, tre. Wow. Tre di questo colore e poi andiamo sugli altri colori. Va bene. C'è anche nera dunque. Sì c'è anche con il contrasto nero perché non vuole fare il carta da zucchero. A me carta da zucchero mi piace. Carta da zucchero. Allora. L'ho fatto bene. Wow. Via. Ah verde e viola. Ne abbiamo già parlato. Sì? Sì ne ho parlato in un video. Che il verde sta molto bene con il viola. Costamento molto audace. Gli abbinamenti. C'è già nella fantasia quindi c'è poco da dire. Che cosa avevi di verde anche? Un altro maglioncino? Non ricordo. Un giocchettino qui ci si mette. Sì sì sì. Sto cercando nel tuo negozio. È bellino. Sta dietro di me. Chi ha questo dietro di te? Il maglioncino forellinato. Chi ha questo dietro di te? Il maglioncino forellinato. Che stai tirando? Cos'era? Un kart can? Oddio so che c'è caldo. Calma. Ah mo c'è caldo. Da quando? Che stai vecchiai amore. Ma va là. Quel maglioncino non l'hai fatto vedere cartone da zucchero. Fammi vedere se sta bene con il cappotto. Sai che amo i maglioni a vina? Io subito il mio occhio pesante va là. Lo faceva riprendere. Mi piace. Perché poi un è lana e l'altro è comunque testuto. Ragazzi mi sento male. Adoro. E' attiva. Ecco. Poi guarda. Ci dà proprio il calcio. Mi piace. Belle se sciarpe. Sembrano anche molto morbide. Sono morbidissime. Ho visto. Che altro? A Cesare quello che è di Cesare. Sono morbide. Poi c'è questo che si dà un po' l'igantino. Bello. Che è tipo bronzo. Bello. E davanti cos'è? A portafoglio la gonna? A portafoglio. Apri, fai vedere. Ci piace. Però non rimani scoperta. Non è che sia allegato. Se ti siedi, certo, stai comunque. Però dà quell'effetto. Bello. L'effetto portafoglietto. Katia, prova il cappotto. Dice Rita. Quale? Rita, quale? Questo qui, carta da zucchero. Voglio vedere la lunghezza del cappotto. Intende, no? Quale, Rita? Questo a carta da zucchero. Se vuoi, li proviamo. Dimmi quali. Questo? Rita? Rita è svenuta. Abbiamo fatto vedere più o meno tutto e passiamo a qualche indossamento cappotto. Allora, il vestito è bello, ma non mi piace il colore, dice Loredana. A me invece il bronzo piace particolarmente. È molto attuale. Però vabbè, ognuno ha i suoi gusti, giustamente. Proviamo il cappotto quale. Sì, carta da zucchero e anche fucsia. Beh, guarda. Ciclamino è qualcosa che... Mamma mia. Quello è meraviglioso. Non c'è che dire, ragazze. Il cappotto ciclamino è qualcosa che... Ragazze, ciao. E vediamo. Sì, bravissima. Bello sto. Aspetta, mi sposto perché voglio far vedere proprio il colore. E non so. Non è un fucsia, ragazze. È proprio un ciclamino. Io lo trovo più interessante come colore. Perché non è visto. Il ciclamino. Il fucsia stanca un po' di fog. Il ciclamino. Fucsia stanca mentre il ciclamino. Io lo trovo perfetto per l'inverno. Se Katia si mette sotto un'altra luce, vi faccio proprio vedere che è... Perché sembra fucsia proprio acceso. Però, ragazze, vi assicuro... Vattite. la differenza, ecco da qui si vede è più spento, il che è molto bello per l'inverno, lo rende proprio particolare per l'inverno ragazzi, anche con un total black sotto io non lo boccio affatto, che di solito boccio il nero, in questo caso lo promuovo a pieni voti, con un qualcosa di pelle, i leggings di pelle, i pantaloni di pelle sotto è bello stupendo il capo, beh guarda che eleganza la lunghezza allora ecco questa lunghezza qua, io lo trovo veramente chic, è quelle lunghezze che piacciono a me, ottimo per un abito, ottimo per i pantaloni anche a palazzo, rende proprio l'outfit molto elegante, questo per me si può chiamare come lunghezza cappotto ma poi guardate com'è foderata all'interno, non per dire, però bello, bello proprio questo invece è diverso, è un pochino più, se vogliamo, più sbarazzino si, più sbarazzino, sta abbinato infatti bene con quello che hai, questo è diverso è una linea leggermente quello è bellissima, la vuola probabilmente schillaci, ciao Marika lo voglio, dice Rita, quindi lo facciamo mettere da parte Rita, perché ti assicuro che è l'ultimo, lei parla di quello lì, è l'ultimo ve lo dico, se lo vuole me lo deve lo devi dire perché lo voglio, allora mandagli subito il messaggio perché la prenotazione non ho detto tanto, Rita la conosce ok, ci siamo, alcuni di voi insomma ci hanno dei canali preferenziali quanto vedo ciao, dice Marika proviamo quello carta da zucchero per dargli un attimo bello bello sto colore, per chi non ama i colori questo colore è abbastanza portabile anche da chi veste minimal dai mamma mia che cosa non è prendi la blusa per simulare anche il maglione, simuliamo la blusa che hai fatto vedere che ci si sposava benissimo e per me insieme questi due avevi tirato giù la blusa quella che avevi messo sopra il cappotto si si, blusa camicia come la vuoi chiamare, io la chiamo blusa si, mamma mia che cos'è questa blusa sotto a sto cappotto simuliamo un po' che ci lo metti si, bella bellissima la volevo far vedere proprio sovrapposta cioè con un pantalone flare jeans bellissimo ciao ragazze ciao raccazze devi scrivere raccazze Anna Maria raccazze perché non hanno i bottoni quale? Loredana no quello lo ha ah Loredana vabbè Rita l'ha visti penso quello fucsia li ha mentre questi beh ragazze ma anche da Zara ci sono cappotti e da Mango che non hanno bottoni perché è il modello che lo richiede cioè la cinta ma io sai che li preferisco e ora vi spiego il perché al di là di questi bottoni fatti così bravissima allora premesso che non abbottono mai il cappotto a meno che si immaginavo che devi bere allora premesso che io non abbottono il cappotto e prediligo sempre quelli fatti così a bestaglia perché mi stringono bene in vita mi fasciano la figura me lo metto come voglio si adatta esattamente al fisico alla tua taglia però non li amo perché se mi voglio mettere qualcosa in oro o una borsa o qualcosa in argento io so che su quel cappotto ci posso contare io odio mischiare i metalli questo è risaputo chi mi segue da tempo lo sa perfettamente noi più o meno abbiamo fatto vedere solo che volevo far vedere un ultimo outfit quel cappotto rosè non so se il pallone meglio sì ciao il pantalone dietro gli somiglia ecco però volevo far vedere anche se è libera giù è libero vabbè buttiamo sopra buttiamo sopra se che ne pensate è abbastanza sta benissimo guarda qua è un tono i tre toni vedete il tonale come si crea o anche il cappotto marsala penso che ci possa stare no? beh guarda questo riprende proprio la blusa però più che il pantalone mi ci piace queste due tonalità sì bello anche il cappotto marsala so se lo volete vedere indossato così facciamo l'ultimo rompiamo e poi andiamo a cena via stasera abbiamo fatto velocemente poi magari però ci siamo godute la nostra mezz'oretta in compagnia poi farò vedere quello che ho preso io a sorpresa vi svelo vi ho svelato non ho svelato potrei aver detto cose non dette quindi vi rilasso poi al video che farò anche questo senza bottoni si soprappone bello no ma è particolare il colore ma mi volto perché voglio far vedere proprio la tonalità non è un rosa che stanca non è un rosa stucchevole non è un rosa Barbie a poi piacciono le tasche così perché ci infilo il cellulare e le chiavi della macchina e so sempre via tra lì quell'altra lì quella petrolio e rosa pure ci vedo petrolio e rosa sì queste due mamma mia su sto cappotto guarda allora se metti quella borsa ci vedo benissimo sta blusa sotto se no anche sempre cinsetto sotto jeans oppure guardate petrolio e questo colore insieme perché questa maglia ha proprio il richiamo di di quella cappotto lì ragazza niente è al caso al negozio di Katia niente è lasciato è bellissimo questo è quello che poi Chiara ha detto non so se se l'è preso o meno ma se l'è preso ti credo beh ma guarda un colore così è molto particolare è molto innamorata comunque sapete che scherzo è tutto molto bello lo so Loredana ma io no Loredana mi piace questo tuo sì movimenti la diretta Loredana mi piace questo tuo intervenire perché movimenta la diretta ma anche noi scherziamo no ma io lei la lei si comprende con me non è una persona assolutamente particolare no mi piace questi suoi interventi perché non è che deve andare sempre tutto liscio anzi è bene che uno interviene in questo modo a me piace ciao ragazze è stato un piacere ci vediamo per il prossimo video domenica con lo shopping da Katia scarpe di prima donna e tantissime altre novità quindi un video shopping bacio e vi aspetto stasera su youtube ciao